Il sinistro di Vitale a battere il calcio di ricorre, c'è tutti gli amici all'ascolto di Radio Gavileo, la ricorsa di Vitale, il sinistro di Vitale, il gol! Goal! Vai! Il pat... no! Sì, sì. Il patato di Noc, il sinistro di Leu, il cilio è risortato in campo, ma va il prato, davvero. Scusate, ma... sì, è il 2-2, quindi, la navi, il sinistro di Vitale, l'ascolto di Radio Gavileo, 2-2, il gol per la parte di Vitale. Grazie. Sì, è giusto così, eh!